Con la firma del contratto di transazione, il Comune di Scalea ha chiuso definitivamente i conti con l'Avvenire SRL. Cinque mesi di raccolta dei rifiuti da febbraio a giugno 2012 sono costati all'amministrazione Basile 588 mila euro. Più che per archiviare la pratica, l'accordo sottoscritto serve per tutelare i 39 operai scaleoti che ad oggi devono ancora ricevere lo stipendio di giugno, 13esima e 14esima e il trattamento di fine rapporto maturato in cinque mesi lavorativi. La trattativa infatti prevede che a pagare gli ex dipendenti a Venire sia direttamente il Comune per un importo totale di 111 mila euro. Quando? Ancora non si sa. Non appena avremo liquidità di cassa, ha ribadito il sindaco Pasquale Basile, l'ufficio Tributi in questi giorni sta lavorando per la discussione della vecchia ICI e dell'IMU. Con queste prime entrate dovremmo riuscire a pagare parte delle spettanze arretrate. La proposta accettata e sottoscritta dall'Avvenire prevede una serie di condizioni vantaggiose sia per l'ente altotirrenico che per la stessa ditta, che in caso di dichiarazione di dissesto non incasserebbe il giusto compenso per il lavoro prestato. Condizioni che per il Comune di Scalea invece si tramutano in un risparmio rispetto al costo iniziale del servizio. La spesa si aggirava intorno ai 943 mila euro, cifra dalla quale sono stati sottratti, oltre agli stipendi dei dipendenti, anche 243 mila euro, tra penale per gli servizi subiti e costi di locazione. L'azienda inoltre ha rinunciato agli interessi legali sul ritardo del pagamento delle fatture e ha anche ceduto a titolo gratuito al Comune di Scalea 430 cassonetti in plastica per il conferimento dei rifiuti. La risoluzione transattiva inoltre pone fine alle controversie in atto tra le parti. Comune e ditta hanno rinunciato ad ogni lite giudiziaria, evitando così ulteriori spese.